Andiamo ora a leggere Casa sul mare. Come nella poesia precedentemente presentata, La casa dei Luganieri, abbiamo anche qui la parola casa nel titolo. Però la casa è meno presente come immagine all'interno della poesia, tant'è che ho scelto di abbinare a questo testo l'immagine di un mare aperto, perché come già appare anche dal titolo Casa sul mare non è tanto sulla casa stessa che il poeta si concentra in questa poesia, come ha fatto invece nella precedente, ma è sulla vista, appunto, la vista del mare, che come sappiamo in montale è sempre un simbolo positivo. Quindi, se nella Casa dei Luganieri la casa era un elemento, un'immagine, cui il poeta attribuiva lo squallore e la desolazione proprie del suo stesso animo, Simbolo del tempo che fa svanire ogni cosa, anche il ricordo rappresentato proprio dalla precarietà di questa casa a strapiombo sulla scogliera, quindi in una posizione particolare, non tanto sicura, esposta alle sferzate delle onde. Ecco, in Casa sul mare, invece, abbiamo un maggior concentrarsi sull'immagine aperta del mare, quindi che già abbiamo trovato nella precedente con l'immagine dell'orizzonte in fuga, e quindi una sorta, una serie di domande metafisiche sul senso del tutto, che anche qui approdano alla ricerca del varco, la via di fuga, il modo di guardare oltre e di trovare un senso alla vita e alle cose. Anche qui vedete, l'ho sottolineata, la parola varco è importantissima, appunto, nella poesia di Montano. Ma andiamo ora, appunto, a leggerla. Casa sul mare Il viaggio finisce qui, nelle cure meschine che dividono l'anima che non sa più dare un grido. Ora i minuti sono uguali e fissi come i giri di ruota della pompa. Un giro, un salir d'acqua che rimbomba. Un altro, altra acqua, a tratti un cigolio. Il viaggio finisce a questa spiaggia che tentano gli assidui e i lenti flussi. Nulla disvela, se non pigri fumi, la marina che tramano di conche i soffi leni. Ed è raro che appaia nella bonaccia muta, tra l'isole dell'aria migrabonde, la corsica dorsuta o la capraia. Tu chiedi se così tutto vanisce in questa poca nebbia di memorie, se nell'ora che torpe o nel sospiro del frangente si compie ogni destino. Vorrei dirti che no, che ti s'appressa l'ora che passerai di là dal tempo. Forse solo chi vuole si infinita, e questo tu potrai, chissà, non io. Penso che per i più non sia salvezza, ma taluno sovverta ogni disegno. Passi il varco, qual volle si ritrovi. Vorrei, prima di cedere, segnarti codesta via di fuga, labile come nei sommossi campi del mare, spuma o ruga. Ti dono anche la vara mia speranza. A nuovi giorni, stanco, non so crescerla. L'offro impegno al tuo fato, che ti scampi. Il cammino finisce a queste prode, che rode la marea con moto alterno. Il tuo cuore vicino, che non mode, salpa, già forse, per l'eterno. Ecco, vedete che, a differenza della precedente in questa poesia, la chiusura, il finale, che peraltro riprende l'inizio, il cammino finisce, il viaggio finisce, quindi l'inizio sembrava senza speranza di trovare un varco, di trovare un senso. Ecco, la fine, dicevo che peraltro riprende l'inizio, lascia invece uno spiraglio di speranza, lascia una sorta di positività. Ecco, ho inserito questa immagine perché la luce finale all'orizzonte rappresenta questa speranza del poeta di trovare un senso alle cose. Forse, magari non essere lui per forza quello che riuscirà a trovarlo, questo tu potrai, chissà, non io, ma di aiutare ad aprire la strada a qualcun altro, la fattispecie alla donna, che è sempre elemento salvifico, affinché riesca a scoprire, a trovare il varco e a vedere una verità. Andiamo brevemente a vedere la poesia e ci soffermiamo, per quanto riguarda questa poesia, solo su alcuni termini e su alcune espressioni. Quindi il viaggio finisce qui, nelle cure, negli affanni, nei problemi meschini che dividono l'anima che non sa più dare un grido, quindi qua sembra un'immagine di disperazione. Il viaggio è finito, non abbiamo trovato risposta, non c'è un senso. Ora i minuti sono uguali e fissi come i giri di ruota della pompa. Un giro, un salire d'acqua che rimbomba, un altro, altra acqua, a tratti un cigolio. Quindi qua abbiamo l'immagine di un meccanismo, forse un mulino, forse una sorta di pozzo, che continua in modo ciclico il suo movimento, così come la vita quotidiana nel suo, ripetersi, nel suo trantran degli impegni. Il viaggio finisce a questa spiaggia che tentano gli assidui e lenti flussi. Quindi di nuovo la speranza di trovare un perché, un'illuminazione, un senso, sembra svanita nella monotomia di un movimento o su una spiaggia dove si infrangono flussi, onde, acque in modo lento e costante. Nulla disvela se non pigri fumi la marina che tramano di conche i soffileni. In cui la marina è soggetto e non rivela nulla, se non pigri fumi che tramano di conche i soffileni. Quindi il mare non rivela nulla, se non pigri fumi, forse una nebbia, una sorta di nebbia, che i soffi del vento, delicati, lievi, tramano, segnano di ondulazioni di conche. Ed è raro che appaia nella bonaccia muta tra l'isola e dell'aria migrabone della corsica dorsuta o la capraia. Quindi abbiamo un'immagine di una giornata, di un momento in cui l'aria non è cristallina e limpida, ma c'è bonaccia, c'è risacca, c'è forse l'umidità dell'afa, magari l'afa estiva, che impedisce una visione nitida delle cose, soprattutto in lontananza. Quindi c'è una sorta di foschia che impedisce di vedere le isole che normalmente dalle alture della Liguria sul mare si vedono, la corsica dorsuta o la capraia. Tu chiedi se così tutto vanisce, in questa poca nebbia di memorie, se nell'ora che torpe o nel sospiro del frangente si scompie ogni destino. Qua abbiamo un tu poetico, un interlocutore. Ecco, questo tu è chiaramente la donna, una donna a immagine femminile a cui il poeta si rivolge. In realtà la donna qua è lei che chiede, in questa immagine, al poeta una risposta, una strada, un'indicazione. E mi sembra non riuscire a credere che svanisca tutto così, con il tempo, che tutto sia dimenticato, che tutto venga prima o poi perduto. E di torpe viene da intorpidire, intorpidimento. Quindi se nell'ora in cui tutto dorme, in cui tutto è tranquillo, o nel sospiro del frangente, oppure nel suono, nel rumore del frangente, viene da frangere, da spezzarsi, quindi dell'onda che si infrange, si compie ogni destino. Quindi finisce tutto lì, tutto così, nel muoversi delle cose, senza un perché, senza un senso. E il poeta risponde, vorrei dirti che no. Quindi non dà una risposta, dà un desiderio. Vorrei dirti di no, che ti si appressa l'ora che passerai di là dal tempo, cioè che ti si avvicina il momento in cui scoprirai il mistero. Forse solo chi vuole si infinita. Ecco qua che lascia spazio alla possibilità di infinitarsi, diciamo, questo neologismo. Quindi di riuscire a trovare una situazione di compenetrazione con il tutto, di armonia con l'infinito e quindi di comprensione del tutto. E questo tu potrai, chissà, non io, ecco, però rinuncia alla speranza di poter arrivare lui stesso a questa verità. Forse lei sì, la figura salvifica, forse la figura femminile riuscirà, forse. Penso che per i più non sia salvezza. Questa è un'immagine pessimista. Ma taluno sovverta ogni disegno. Ecco, può darsi che, nonostante per la maggior parte non ci sia speranza, può darsi che qualcuno riesca a trovare il varco, l'anello che non tiene, il punto morto del mondo, la via di fuga, come volete chiamarla, il punto di discontinuità che ci metta nel mezzo di una qualche verità. Può darsi che qualcuno ci riesca, qual volle si ritrovi, che riesca a esaudire questo sogno e si ritrovi nella condizione di consapevolezza che ha sempre voluto cercare, voluto trovare. Vorrei, prima di cedere, segnarti con questa via di fuga. Col poeta si augura di poter indicare questa via di fuga alla sua compagna, prima di cedere, prima di arrendersi, prima di morire. Questa via di fuga che è labile, come nei sommossi campi del mare, è spuma oruga, quindi potrebbe usare l'espressione proverbiale come un ago in un pagliaio, è difficile trovare l'abile evanescente come la spuma del mare nell'infinità dell'oceano o comunque delle grandi distese marine. Ti dono anche la vara mia speranza, ecco, anche la speranza che coltivava per sé stesso, la dona alla donna. A nuovi giorni, stanco non so crescerla, il poeta sembra avere rinunciato, essere rassegnato per quanto riguarda sé stesso, ma non per altri. La offro impegno al tuo fato che ti scampi, quindi offro impegno tutto quello che posso, ti offro per aiutarti a salvarti e trovare questa verità, questa certezza, questo mistero che cerchi. Il cammino finisce a queste prode che rode la marea con moto alterno. Quindi sì, il cammino finisce qui, non c'è possibilità di trovare una risposta o un senso nel presente. Il tuo cuore vicino che non mode salpa già forse per l'eterno. Ecco, non c'è possibilità per il poeta, ma forse per la donna sì, forse già il suo cuore vicino materialmente non lo sente, non sente la sua voce perché già sogna, già ha trovato il varco, già salpa parte per l'eterno. E quindi c'è questa bellissima immagine finale piena di speranza.